Ragazzi, è appena uscita la patch 13.20, mi sono svegliato appositamente per provare la nuova Flare Gun Mi sto facendo aiutare dal bot più forte d'Italia, ovvero Rimo il D-Bot, perché non so dove si trova Dove si trova la Flare Gun, lo sai? Te lo sai? Te lo sai? Ma come bella domanda? Ti ho chiamato appositamente, comunque nello shop, il codice creatore Ma dai, io pensavo che si trovasse il lobby, grazie nella mappa Cioè, ragazzi, aiutatemi Come al solito vi ricordo di supportarmi nello shop con il codice creatore Diego, trattino abusivo, che a breve cambierò con uno molto più corto Ma nel frattempo, Diego, trattino abusivo, ho anche scritto tutto in piccolo Taccatevi su Instagram, reposto E naturalmente, quando andrò a live, potrete fare i provini Chiudizzo il mio codice supporto creatore Hai il vantaggio di fare il provino per primo Detto ciò, io direi di andare E una cosa, raga, io non ho dormito niente Ho tre ore di tutto Tu hai dormito bene? Sì, sì, io ho dormito bene Nove ore, nove ore Lui dorme nove ore, è un giro Io ho dormito tre ore, ragazzi Perché, come sapete, chi mi segue su Instagram Chi segue le mie live, sa che ho una casa Ha due piani da arredare da solo Non sto più dormendo Già dormivo poco prima, adesso Quindi mi servi Cioè, devi fare telekill Devi fare telekill E comunque, raga Voglio, io voglio solo provare la flare gun Volevo fare 50 euro per ogni kill con la flare gun Però, raga, sono già povero Ci ho dovuto spendere Non potete immaginare quanti soldi per la casa Quindi Codice creatore, datemi una mano Sono povero Eccola, l'ho trovata Rimo al digno L'ho trovata qua Eccola Vieni qua Ma non spara, fra What? Cos'è? La nuore È una pistola No Fra, fidati È una pistola Ma senti il rumore della flare gun Fra Mi hai scammato Ok, l'ho trovata, fra No, intanto ho trovato questo Basta scammarmi No, no, ho trovato questo Guarda Vieni qua, guarda che figata Vieni qua Sono dall'altra parte No, in acqua l'ho lanciato Ma come si mette? Ma come si mette? Ah, ho capito il La prima cassa Non devi lanciarlo C'è un tipo dietro C'è un tipo dietro Ma dove? Dove? Dietro, fuori dalla casa Fuori dalla casa, Diego Lo sento? Lo vedo? Oddio, no, scoop Wow, io ho fatto 50 in testa Ok, 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 ok Let's go, let's go Bella per il rimaldigno, raga Il botto più forte d'Italia Il bot più forte d'Italia Ma che era? Ah, hai lanciato qualcosa Fichissimo Fichissimo, raga È bellissimo Ma Hai provato a lanciare? No Lo provo Vieni qua, vieni qua Posso riprenderlo? Ma? Sì, lo prendi e lo lanci E lo riposizioni No, ma è fichissimo No, ottima trovata Anche se spero Spero vivamente Che siano rimasti Anche quelle normali Perché occupa uno spazio Uno slot Comunque non so dove si trovi la flare gun Ma non è Eccola L'ho trovata Sul serio bro Sul serio Ma non ci posso creare Ma è un lanciagranate Raga è un lanciagranate Voglio vederla bro Ma mi stanno sparando Ma mi stanno sparando No, aspetta Devo capire come funziona No, nell'acqua non funziona Ma non capisco bro Ti giuro Devo capire come funziona Raga dobbiamo capirlo insieme Dobbiamo capirlo insieme Comunque dobbiamo trovare armi Eh Stiamo messi un po' male Ok Allora ragazzi Io non so se ci siano altre rarità Però io ho trovato quella rara Ovvero quella blu Toglie 60 Un colpo nel caricatore Ci sta Tempo di ricarica 1,6 secondi Non male Dobbiamo provarla Dobbiamo un attimo capire come funziona Bene bene Però è un po' strano È un po' strano In acqua non esplode Guarda Oh Vedi Vedi In acqua non esplode Eh si divide perché si spegne Però non so neanche che colpi Raga che colpi utilizza Devo capire Ma I colpi infuogati Cioè non so che colpi Fra Fammi vedere bro Passamelo un secondo Ok Non sparare ho solo due colpi Aspetta aspetta Dobbiamo fare una kill Ok ci provo Ci provo Vediamo se togli 60 Non l'ho ucciso Un altro colpo Ma li va addosso No non li va Ma in fiamma pure Arriva il digno Arriva il digno Ma in fiamma Fra Fra Cosa sta 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 bruciando la mappa Ma non ho più la Aspetta se ci passo sopra Prendo danno No Sì Stai perdendo vita Hai perso vita Fra ma Ma non ce l'ho più ora Però Cioè la trovi Non puoi ricaricarla Hai qui No ok Dobbiamo trovarne un'altra Ne dobbiamo Trovare un'altra 105 Atterra ad uno L'altro Ok Ma prendono a fuoco le cose Non ti faccia più bro Non ti faccia più Lo voglio scammare Lo voglio scammare Eccolo Eh sì ma non ti faccia 36 54 Easy Easy scam Easy scam Easy scam Eccolo ancora Sì ma mi stai rubando tutto Rimo Cioè tu mi devi aiutare Non mi devi scappare Capisci che tu Non devi Mi ha scammato Raga mi ha scammato Comunque dobbiamo trovare casse La voglio riprovare Cioè Vai vai Prenda a fuoco tutto Comunque c'è L'hai presa dopo 3 minuti di partita Quindi No è pazzesco È pazzesco Voglio vedere se ci sono altre rarità Secondo tentativo ragazzi Giocare con Rimo il D-Bot Non è per niente facile raga Non potete capire Come sono morto Non ve lo faccio vedere Non ve lo faccio vedere Ho lasciato l'avversario con 2 di vita E aveva il tac Io avevo quel pompa Che non mi spara con la mia connessione E poi raga Da appena svegliati Si fa fatica Io direi di andare qua Segretaria sexy Questa è la cassa giusta È la cassa giusta No no ci stavo credendo Ci stavo credendo Dobbiamo trovarla È il potere della segretaria sexy Non ha funzionato La segretaria sexy Ragazzi se eravate in live Sapete il motivo Quindi scrivete perché Flare gun Flare gun vieni qua Vieni qua vieni qua Sempre blu Sempre blu Attenzione Portola portola Vedi se si può potenziare Se non si può potenziare raga Probabilmente l'unica rarità esistente È la blu Però voglio fare dei test Vieni qua Ok me l'ha appoggiata lì Gli lascio l'onore a lei L'onore è a me E abbiamo capito Che ha munizioni speciali Vediamo un po' L'oggetto non può essere potenziato Però voglio provare una cosa Allora Test se brucia Anche il mattone Lo sta distruggendo No non è molto fisico No no non lo sta distruggendo Secondo me Non perde vita Non perde vita Ci sta L'esplosione ha fatto danno Vediamo una casa di legno Però Quella parte è legno Raga vediamo Sto veramente curioso E invece la casa di legno La casa di legno parte La casa di legno sta andando Prova sul legno qua del materiale Ok anche i materiali Penso di sì Penso di sì Sta bruciando Guardate Pazzesco raga Pazzesco Eh forse così lo prendo Ok vediamo qua Sì 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 Sta bruciando No sta bruciando No è bellissimo raga È bellissimo È bellissimo Quindi se colpi Si può utilizzare così Per dar fastidio ai nemici Dentro i fortini Se c'è un competitive Fra Ok no Buildano in metà Alla fine No raga Raga ok Sarebbe ancora una È OP È OP È OP Comunque lo diamo Voglio provarla contro i nemici Voglio provarla contro i nemici E poi usciamo Ho trovato la postazione da potenziale Eh sì ma L'ho già visto Rimoldegno Buongiorno Buongiorno Tranquillo Oh c'è un lama qua Vieni qua Valla a prendere Valla a prendere te Ti do l'onore Dov'è dove è Arrivo arrivo Vai ti do l'onore Intanto luto il palazzo Io luto il palazzo Prendi la jump del lama Così almeno possiamo fuggire Vai 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 50 metri Arrivo lo prendo Dov'è Sono qua al pink Dov'è Fra più sotto Più sotto Più sotto Ma più sotto c'è l'acqua Fra lì Lì Eccolo lì 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 Eccolo là Prendilo Bro ma Ti ho scappato Ma ci sono anche andato Easy scam Ma stavo usando la casa L'ho smesso di tutela Easy scam Fra una nuova Una nuova Proviamo a fare doppia Proviamo a fare doppia No non può What? Eh? Eh? Me l'hai fregata te Cosa? No Ma È andata via C'è un bug Fra? Cosa? No ma È scomparsa No 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 È scomparsa Gente fra gente Doppio Uno l'ho distrutto Cioè uno l'ho proprio Non mi morire Ma stai parlando col più forte al mondo Il mio cane sta abbaiando Io non ho cane L'ho distrutto Mi devi dare una mano Questo che l'ho distrutto Ok Il compagno Easy scam Rimoldi bot Salvato Easy Quando ti serve una mano Hanno pure il cecchino Allora Ma come l'hai killato Ma tu sei morto Allora proviamo un attimo Questo test Levati No no Come no No bro No no È preso fuoco C'è la barra infocata della vita No raga il mio pc non regge più 60 fps Con il monitor 240 Prima sono arrivato a 12 Prima che Incomincio a laggare tutto Io direi Di Quittare Ma 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 È andato È andato Ha tutto No ragazzi Rimu aspetta Oddio raga non mi editavo neanche Che casino Sta laggando troppo Mi ha fottuto la big Ma come ti ha fottuto la big Ma che stai a dire No È matto È morto fra Ti giuro che ha 20 di vita Ok 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 L'ho scammato L'ho scammato C'è la flare gun C'è la flare gun raga Raga che facciamo Prendiamo la flare gun E la rischiamo così Che dite Raga la faccio Lo prendo Sono un pazzo Sono un pazzo Lo prendo Non mi interessa Lo faccio Lo faccio per la scienza Non ho il cecchino Raga con tantissimo lag Sponiamo la flare A caso Voglio vedere quelli lassù Non ci arriverà mai Vero non ci arriverà mai Quelli lassù Arrivo arrivo Sette rimasti Dai bro ci lasciamo Però mi indica dove sono Fra guarda Che l'ho detto bro Che l'ho detto No raga mi serve un cecchino Raga non ho maz Hai maz fra Hai maz Ho il cecchino Dammi il cecchino E dammi i maz Non ho più niente Non ho più niente Come non hai maz Non ci sei due Full Devo finirlo Dove è andato Raga non ho Non posso finirlo Non ho maz Raga finito i giochi Non ho maz fra Bloccato Come salgo No non ho più maz Lasciolo scendere Lasciolo scendere Raga sono morto E vabbè fra Non posso fare niente Ragazzi non potevo fare niente Senza materiali Sarebbe morto anche ninja Ti fiu Non potevo fare niente Raga E un po' mi rode Un po' mi rode Ma va bene così Raga fatemi sapere Se l'avete utilizzata Se vi piace Potrebbe essere interessante Secondo me potrebbe essere interessante 15.000 like Per un prossimo video E un saluto Dalla segretaria sexy Vai saluta Ehi bella Bella ragazzi Per un prossimo video Per un prossimo video